I condilomi sono delle escrescenze che compaiono sulle mucose dei genitali anali o orali della bocca e sono causate dal papilloma virus. Questo virus quando penetra all'interno della mucosa, spesso in seguito a contatti di tipo sessuale, possono far crescere i condilomi e quindi queste escrescenze rappresentate da miliardi e miliardi di virus. Sono molto contagiosi e quindi è facile che in seguito a un rapporto con un partner che ne è infetto ci si possa contagiare. Possono essere eliminati in maniera molto efficace i condilomi grazie al laser o alla diatermocoagulazione con apparecchi a radiofrequenza. L'intervento è molto veloce, è molto semplice, è indolore perché possono essere applicati qualche minuto prima delle creme anestetiche e quindi che possano eliminare ogni tipo di fastidio durante l'intervento ed è obbligatorio e necessario intervenire per spezzare quel circolo vizioso o quella contagiosità che può interessare la collettività. Quindi attenzione a queste escrescenze che compaiono inizialmente, dapprima in piccolo lungo 1, 2, 3, ma se non curate possono estendersi e diventare decine e ai primi segnali e ai primi sintomi di svolgersi al proprio dermatologo per eliminare il problema.